Fano, amministrative 2019, primo turno, PD recupera e rimane il primo partito della città, Lega, seconda forza politica e i 5 Stelle passano al terzo posto. Il risultato delle urne a 24 ore dal voto ci consegna questo risultato con una lotta per la poltrona a sindaco di Fano che si consumerà in una sfida all'ok coral tra il sindaco uscente Massimo Seri dall'alto del suo 46,69% con 14.907 preferenze e Lucia Tarsi con il suo 33,95% frutto dei 10.840 voti, espressione dalla coalizione di centrodestra con una Marta Ruggeri del Movimento 5 Stelle che lontano dalle sue aspettative rimane al palo, pur mantenendo, e non è certo bastato, sostanzialmente lo stesso bacino di voti, 5.779 di domenica contro i 6.131 del 2014 per un 17,66, assolutamente in linea con il 18,01 del 2014, ma questo non è certo stato sufficiente. Grande rammarico quindi sia della candidata che dei pentastellati per non aver saputo capitalizzare a livello locale l'ascesa al governo con Gigi Di Maio e ministri compresi, come invece ha fatto la Lega cavalcando l'onda nazionale, passando dai 312 voti e lo 0,9% al 21,15% con la bellezza di 6.753 preferenze, diventando così la seconda forza politica di Fano. Ma analizziamo nel dettaglio questo voto, dopo una campagna elettorale anomala, dai contorni sonnecchianti e a tratti anche fatta con poca convinzione, a cui è mancata l'argomentazione regina e qualche colpo di testa. L'argomentazione ospedale unico, clinica sì o clinica no, non è riuscita a colmare questo vuoto. Uno su tutti si è stagliato all'orizzonte, Luca Serfilippi, un fan prodigi della politica affanese, ex assessore delle Raguzzi, ora leghista, che sfonda il muro delle mille preferenze, 1018 per la precisione, portandosi a casa ben il 32% dei voti della Lega. Oltre alla felicità c'è anche una bella responsabilità che adesso mi sento sulle spalle personalmente, io continuerò a rappresentare loro ma rappresenterò tutti i cittadini perché noi rappresentiamo sempre tutti i cittadini e porterò avanti le mie battaglie, quello che ho sempre portato avanti come la difesa del nostro ospedale, lo sviluppo, le infrastrutture della nostra città per dare dignità alla nostra città. Però adesso dobbiamo concentrarci sul turno del ballottaggio, il 9 giugno c'è un referendum. Seconda in lista una donna, Marianna Magrini, con un notevole divario e fermatasi a 363 preferenze. Restando nella coalizione fa specie la lista espressione della candidata, Lucia Tarsi, Fano città ideale che strappa all'elettorato solo 2.015 voti con un risicato 6,31% e dove chi porta più acqua al molino è proprio la candidatura a sorpresa del suo fondatore, un Giancarlo Danna con 194 voti pari al 22%. Un po' di delusione anche per il risultato di un altro figlio prodigo che ritorna alla politica. Nella lista civica la tua Fano, Davide Rossi, che probabilmente con i suoi 100 voti tondi tondi non ce la farà ad entrare in consiglio comunale. 897 preferenze con il 2,8% ha fatto la sua parte con l'uomo del ponte, Mauro Falcioni, che con ben 206 voti fa il 55% della sua lista. La neonata nuova Fano porta in dote con il suo fondatore Pollegioni 132 voti. Sulla sponda opposta, con il nuovo corso Zingaretti, il PD dato per spacciato, visti i risultati delle governative, invece ha mostrato le unghie e con il 22,04% rimane saldamente al primo posto tra le forze politiche comunali. Nelle loro fila il miglior performance tra i candidati ma anche tra gli assessori uscenti è Cristian Fanesi, 466 voti. Sicuramente adesso c'è tanto altro lavoro da fare perché abbiamo altri 15 giorni dove continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, cercare di lavorare seriamente per questa città, cercando di lavorare appunto per richiedere la conferma al nostro elettorato. E quindi altri 15 giorni, ancora non è fatta, ma veramente siamo contenti, sono contento personalmente ma siamo contenti come Partito Democratico perché non solo le preferenze dei singoli ma il risultato corale, la squadra, il gruppo giovane e fortemente rinnovato che il Partito Democratico ha messo in campo è stato premiato dai cittadini fanesi. Nella pattuglia dei suoi colleghi digiunti Carla Cecchettelli porta 326 voti, Marchegiani 257 e il debuttante Dimitri Tinti segna 322 preferenze sul suo tabellino con l'8% e un raggiante mascarini che abbiamo sentito anche ai nostri microfoni che porta in dote ben 519 voti secondo solo a Ser Filippi. Nella squadra poi dei debuttanti in politica come non rimarcare il risultato di colui che è stato anche al centro, di roventi polemiche per questa decisione, Etienne Lucarelli con i suoi 440 voti e un bel 29% di lista. Sì, assolutamente sì, soddisfazione personale per le 440 preferenze ottenute, infatti ringrazio tutti gli elettori che hanno scelto di mettere il mio nome nella scheda elettorale, un risultato importante per la lista Insieme Meglio, è una nuova lista, un debutto anche per lei, quindi arrivare al 7% direi che è stato veramente un risultato ottimo, segno che il nostro progetto di tanti ragazzi che si sono messi in gioco è piaciuto, piace e ha portato un ottimo risultato. Ma nella lista Insieme è Meglio è una lista di nome di fatto perché tutti insieme hanno portato a casa ben 2228 voti con un rimarchevole 6,98% a cui non hanno potuto aspirare ben più consolidate e storiche liste civiche della città, ferme al di sotto del 3%. La lista poi espressione del sindaco uscente Massimo Seri, che lo traghettò verso il suo primo mandato, Noi Città ha dato alla causa 3.217 voti e dove un altro assessore uscente, Caterina Delbianco, si è distinto con 466 voti, al pari di Cristian Fanesi. Fanalino di coda, ma con un pungolo del lago della bilancia, Teodosio auspici. I suoi 404 voti saranno i più corteggiati di questo balottaggio. Sarà l'1,27% più pesante di sempre. La campagna acquisti è ufficialmente aperta.